Ben ragazzi più falcon e bentornati sul mio canale, finalmente ci siamo, non è la demo ma il gioco completo finalmente Black Ops 3 Siamo qui per iniziare il Road to Commander, è una cosa che ho sempre voluto fare ma che non ho mai fatto Road to Commander per chi non sapesse cos'è, che cos'è Praticamente si tratta di registrare tutte le partite dal livello 1 al livello massimo, il comandante Che qui dovrebbe essere il 55 se non sbaglio, io non vi farò tutte le partite, cioè le faccio per l'amor di dio Però vi farò vedere nei video i momenti un po' più bellini, tralascio magari le cose brutte e così via Anche perché sennò viene prima di tutto una serie lunghissima, enorme, cioè arriviamo a Black Ops 14 Quando finirà questo Road to Commander e poi insomma ci metto anche meno a caricarlo così e adesso siamo da soli Però vedrete che andando avanti avremo sempre degli ospiti interessanti e bando alle ciance, ciance alle bande Facciamo subito la prima partita, io non ho neanche... cos'è il mercato nero? Che figata, non so cosa sia, non ho giocato, sembra tanto quello di Destiny Vabbè, ho fatto due partite, due di numero su PS4 a Games Week e basta Quindi questa è la prima partita su Prode su PS4 Andiamo a trovarla subito, nucleo, poco c'è il bonus Ah, gioco delle armi... ma... ma spi... ma c'è... buah Nucleo facciamo dominio, subito, così, easy, ci vediamo dentro Ok signori, una mappa che... nella demo non c'era Bene, avevamo iniziato la demo morendo Iniziamo il Road to Commander uccidendo una persona, molto bene Pezzo di merda subito, eh, subito iniziamo, eh Tio Bono, Tio Bono... va bene, tutto bene Round perso, molto male E la Killcam sono io magari, vero? Sì Guarda mamma, sono in Killcam Cos'è, Breaking Bad? Con che texture poi me lo stai dicendo Eh raga, passare da Destiny è una cosa dura È dura, è dura, è dura È la prima l'abbiamo persa Grandi Dai che sono lì Erano lì Me li fregano tutti ragazzi Oppure mi salvano Una cosa delle due Perdiamo a... Livello 2 Vieni, vieni Non ci credo, non è possibile Ho capito che non trapasserà i muri Ma quello era di cartongesso, davvero C'è nessuno? Uno l'ho preso Vediamo se mi dura ancora un po' È che questo va bene dalla lunga Io mi sto cacciando O l'ho preso invece Dai, vediamo se riusciamo a beccare qualcuno Allo spawn Sì che li ho presi Grande Ci abbiamo l'uove Ci abbiamo l'uove Che non tiriamo Perché Perché è tutto rotto Attenzione strage Ah, mi aspettava Eh, bravo Bravo lui Specialista letale Abbiamo guadagnato un trofeo Mi facciamo i trofei In light Mi sa che ha fatto Qual... Ma ho capito se Se viene dalla Oppure se viene dal Dal joystick L'audio Dove anche andare a pisciare Fra l'altro Ma ho capito Adesso Ma l'avevo anche visto Ma guarda Tutti camper Tutti camper Tutti camper Sali Questo Andava avanti Di spalle Sicuramente Non troverai Nessuno Che ti spara No Tempesta Gli od già Bello Presto a fermo Ci mette un bel po' di tempo però Cos'ha il Tempest Dai che facciamo l'ultima kill L'ho lanciato la cazzo sbagliato tantissimo E non ho preso nessuno LVP ragazzi LVP Oh mio dio 29-19 la seconda partita Oh mio dio Altra mappa nuova Altra mappa nuova e vediamo cosa Prego per l'assista Mi ricorda un po' Turbine sta mappa Quella del vecchio Adesso passerò a dirvi tutte le mappe Tutte le mappe che Quali mi ricordano Grazie moto, grazie Adesso passerò a dirvi tutte le mappe Che che mappe mi ricordano Di quelle vecchie Cos'ha fatto? Cos'ha fatto? Cos'ha Ah io non ci capisco niente Il problema bravo è anche C Perché ti metti sdraiato per conquistare le bandiere? Perché se poi ti metti sdraiato sulla bandiera Cosa pensi che non ti vedano? Grazie cuffie, grazie Cattura un obiettivo Mi danno il tempo di leggere Sono tipo le sfide Io ho paura di saltare sopra qualcosa di brutto Che faccia male Tipo una mina strana Che cacci fuoco e fiamme E belli in tutti qua Però a me da fastidio sta roba che esce dal No, ho sbagliato A me da fastidio sta roba che esce dal joystick Però Dopo non posso giocare di notte a sgamo Bella madonna, cosa mi ha ucciso? Vabbè Qualcuno che stava Oddio mio Che cos'è? Oddio Io ho paura di sto gioco, veramente Io sono rimasto Che la cosa peggiore che esistesse Era la C-130 Adesso è rimasta quella roba lì Kamadoska, sono tutti qua E meno male che ci sei tu A dirmi che è morto Aspettate che sto concentrato un attimino Aspettate che sto concentrato un attimino Vai, 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 vai Neanche uno, figurati PESSIMO Allora, quando gioco bene Perdiamo E quando gioco di merda Vinciamo Me la spieghi sta cosa E questa è la M-27, dai Si ricarica anche uguale Cioè, raga, vai Anche barattutina verde merda che c'hai Proprio bella Raga, la c'hai C'hai inculato Guffo Guffo di merda No, che mimetica figa è La voglio anch'io Questo spara scorreggio Cerberus, che roba è Che roba è il Cerberus, raga Che cazzo è quel coso? Oddio Oddio, 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 oddio Via, 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 via Mi sa che ho trovato il Cerberus, ragazzi Cioè, aveva un lanciarazzi quello in mano Quello girava con un lanciarazzi Cazzo, cazzo Via, 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 via Via, via, via Via, via No, mi ha preso Mi ha preso Vediamo se Questa sarà l'ultima partita Del Road to No, sì L'ultima partita del Road to L'ultima partita Dell'episodio Proviamo il pompa Che era tanto forte Che era tanto forte Nella demo Nella beta Che figa la mappa No, guardate Che figata Sono curioso anche della campagna Rega, sinceramente Adesso Probabilmente La campagna me la gioco Mentre carico il video Quindi Quando vedrete questo video Probabilmente avrò giocato già un pezzo Però sono curioso Se confermo che il pompa È forte Vabbè Questa mimetica E penso sia Una delle cose più tamarre Epiche che abbia mai visto Bella, bella 14,9 Not bad Su quello che ha fatto più kill È anche il cam è mio Penso sia la prima kill cam Di Di Black Ops Che faccio Mamma mia I riflessi Proprio lui È eccezionale Il pompa su sta mappa Si usa abbastanza bene Livell'8 Non ha sparato Ne facevo mille Con che cosa No vabbè Siete la merda Davvero Spostatevi 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 Ah Non voglio morire Non voglio morire Non voglio morire Sistemato Olè Nessuno ci ferma Dai 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 Fermati ti prego Dove è andato? Aiuto Eccolo Che boh da quanto lo sto inseguendo raga Non ci credo Non ci credo Non ci credo Va bene Signori Siamo a un'ora e venti di registrazione Livello 8 raggiunto 6 partite fatte Direi che Come primo episodio ci sta tutto Perché dovrei vietarlo parecchio Scusate se guardo là Perché ho il monitor Con il mio faccione Che guardo insomma Ragazzi io direi Appunto di fermarci qui Di proseguire Facciamo un piccolo recap Di quello che abbiamo fatto Delle wildcard Delle robe Per cui c'è la pompa Tante mimetiche E casco artico Va bene Va benissimo Ok Signori Io vi do appuntamento Al prossimo episodio Lasciate un mi piace Se questo vi è piaciuto Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto E niente Da Falcon E da Black Ops 3 È tutto Ci vediamo al prossimo episodio Bella